Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci di Cronaca. Un giovane di 38 anni di sanza è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle ore 13. Il 38enne era a bordo della sua moto, un Honda Hornet quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuoristrada nel tratto della extra da statale 19 ai confini tra i comuni di Padula e Sala Consilina in Contrada Fonti. Stando ad una prima sommaria ricostruzione sembra che un camion abbia tagliato la strada al motociclista che ha tentato in vano di evitare l'impatto con il mezzo pesante e poi è finito nella cunetta che costeggia la strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito allertato i soccorsi e sul posto dopo pochi minuti sono arrivate due ambulanze del 118. I soccorritori si sono subito accorti delle gravità delle sue condizioni. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla dove i medici, visti i numerosi traumi riportati, ne hanno disposto l'immediato trasferimento presso l'ospedale San Leonardo di Salerno. Ancora cronaca. Tentato furto la notte scorsa a Teggiano, al bar Tabacchi, vizi e delizie situato nel cuore della frazione di Prato Perillo. Per i particolari seguiamo il prossimo servizio. Tentato furto la notte scorsa a Teggiano, al bar Tabacchi, vizi e delizie situato nel cuore della frazione di Prato Perillo. I soliti gnoti si sono introdotti nell'esercizio forzando una grata apposta a protezione di una finestra sul retro della struttura. Una volta all'interno però si è attivato il sistema d'allarme che è costretto ad una rapida ritirata ai ladri i quali non hanno potuto portar via nulla. Stando a quanto evidenziato dai titolari, alcuni cittadini la notte prima del furto avrebbero notato un'auto sospetta nei pressi dell'esercizio commerciale. Nella stessa notte i malviventi hanno fatto visita ad un'abitazione non troppo distante dal bar Tabacchi, portando via oggetti di valore e soldi. Sono in corso le indagini ora da parte dei carabinieri della locale stazione per risalire all'identità dei responsabili. E occupiamoci ora di ambiente. Si è tenuto in prefettura Salerno un tavolo tecnico sulle problematiche inerenti, la situazione di pericolo sul territorio di Sassano relativa alla manutenzione della vasca Cappuccini, uno dei punti maggiormente a rischio di esondazione del fiume Tanagro. Ma per i particolari seguiamo il servizio che è stato curato da Antonella Citro. Si è tenuto in prefettura Salerno un tavolo tecnico sulle problematiche inerenti alla situazione di pericolo sul territorio di Sassano in relazione alla manutenzione della vasca Cappuccini, uno dei punti maggiormente a rischio di esondazione del fiume Tanagro, un incontro tra le istituzioni richiesto dal sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino e convocato dal prefetto di Salerno Gerarda Maria Pantalone. Alla riunione erano presenti tra gli altri anche rappresentanti del consorzio di Bonifica Vallodiviano e Tanagro, i rappresentanti del genio civile Salerno Regione Campania e il rappresentante dell'autorità di Bacino Massimo Verrone. Durante l'incontro si è discusso sulle iniziative da intraprendere con gli enti preposti per risolvere quello che rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, una problematica sollevata dal primo cittadino di Sassano. C'è un centro abitato che è stato costruito in passato al di sotto dell'argine del fiume Tanagro, questo tratto per le condizioni in cui versa è fortemente a rischio e sondazione, ha detto. Allo Stato la manutenzione della vasca Ponte Cappuccini è carente, non viene eseguita la pulizia dell'alveo e il pericolo per la pubblica incolumità è elevato, considerato gli eventi precedenti e l'imminente arrivo della stagione invernale. L'amministrazione comunale di Sassano, insomma, dà la piena disponibilità a intervenire anche in modo diretto, previa l'autorizzazione degli enti preposti. Quello che chiedo, ha concluso il sindaco Pellegrino, è un percorso condiviso, per trovare insieme una soluzione in modo da eliminare il pericolo. Infine il referente del genio civile ha chiesto a Pellegrino di varsi carico di eventuali rifiuti solidi urbani che potrebbero rinvenirsi in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione. E occupiamoci ora di cronaca giudiziaria. Gli otto medici in servizio presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Polla non sono responsabili della morte della piccola Aurora Babbino di tre anni. E questa è la conclusione della perizia disposta dal GUP del Tribunale di Lago Negro ed effettuata dal professor Alberto Villani dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Nella condotta di nessuno degli imputati, scrive Villani, nella perizia è possibile rinvenire un qualsiasi rapporto causale rispetto alla morte di Bambino Aurora. I medici, secondo l'accusa basata su quanto è emerso dal referto del medico legale nominato dalla procura, avrebbero operato con negligenza causando la morte della bambina dovuta a sciocchi reversibili conseguenti a squilibrio idroelettrolitico causato da perdita di liquidi e sali a causa di vomito e diarrea. Il professor Villani, nella sua perizia, invece sostiene che l'ipotesi accusatoria della disidratazione che poi ha portato ad uno shock irreversibile, che ha quindi causato la morte, non ha nessun fondamento. Ora bisognerà attendere il 7 maggio del 2015, quando ci sarà l'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale di Lago Negro, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. La piccola è deceduta il 3 marzo del 2011 all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove era stata ricoverata in condizioni disperate, dopo un doppio ricovero all'ospedale di Polla. I medici sono accusati di concorso in omicidio colposo. Si è tenuta giovedì la seconda udienza presso la sezione penale del Tribunale di Lago Negro, del processo che vede sul banco degli imputati l'attuale sindaco di Polla, Rocco Giuliano, il vice sindaco Massimo Loviso, i consiglieri comunali di maggioranza in carica del periodo 2003-2008, due segretari comunali che si sono avvicendati al comune di Polla e responsabili all'epoca dei fatti dell'ufficio tecnico del comune. Nel periodo in questione Loviso ricopriva la carica di sindaco e Giuliano era il suo vice. I capi di imputazione sono concorsi in abuso di atti d'ufficio relativamente al bilancio comunale. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero tentato di nascondere una situazione debitoria del comune. Nell'udienza di ieri sono stati ascoltati in qualità di testimoni Antonio Episcopo, all'epoca dei fatti consigliere comunale di minoranza, un maresciallo della Guardia di Finanza ed il consulente della Procura della Repubblica. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2004 e il 2006 e riguardano debiti fuori bilancio per un importo pari ad 1.600.000 euro. L'attività investigativa da parte della Procura della Repubblica di Sala Consilina è partita in seguito ad un esposto presentato dall'allora gruppo di opposizione in Consiglio Comunale Rinascita Pollese. Ed ora occupiamoci di politiche sociali. La Campania varrà risorse importanti per sconfiggere la battaglia culturale contro la violenza delle donne. 4 milioni e mezzo di euro, questo l'ammontare complessivo stanziato dall'assessorato regionale alle politiche sociali. Per i particolari seguiamo subito il servizio. La Campania varrà risorse importanti per sconfiggere la battaglia culturale contro la violenza sulle donne. 4 milioni e mezzo di euro, questo l'ammontare complessivo stanziato dall'assessorato regionale alle politiche sociali. A comunicarlo Bianca D'Angelo, assessore regionale alle politiche sociali, che ha anche ricordato che è stata definita la ripartizione delle risorse destinate agli ambiti territoriali per la realizzazione dei centri antiviolenza in Regione Campania. Si tratta di un'iniziativa di cui l'assessore si dice estremamente orgogliosa e che rappresenta un atto concreto con cui la Regione Campania dimostra di essere realmente a fianco delle donne. Saranno ora gli ambiti territoriali a definire l'attuazione esecutiva e l'operatività dei centri. In tal modo, su tutto il territorio regionale le donne vittime di molestie, abusi e violenze troveranno punti di riferimento e di sostegno. E siamo giunti alla pagina degli eventi. Per conoscere non solo il programma, ma anche i dettagli della Due Giorni sulla prima mostra scambio del nuovo e dell'usato organizzata dall'Associazione Rombo delle Storiche nella zona industriale di Sala Consilina. Stamane il taglio del nastro, la manifestazione che si concluderà domani alle ore 22, prevede anche un percorso enogastronomico. A tal proposito abbiamo ascoltato Domenico De Lio, uno dei membri dell'organizzazione, ed il primo cittadino salese, l'avvocato Francesco Cavallone. Il Rombo delle Storiche nasce da un gruppo di imprenditori, operai, impiegati, appassionati delle auto d'epoca, moto d'epoca, biciclette, tutto quello che riguarda lo storico in effetti. Quindi da questo è nata, l'inizio arriva di creare questa associazione nuova per dare un input anche al nostro territorio, di incrementare un po', avviare anche e avvicinare i giovani a questo tipo di manifestazione. Quindi per questo motivo creiamo questi eventi, questa è la prima edizione, poi ce ne saranno asseguite altre, speriamo che il pubblico del nostro territorio intervenga e abbiamo contattato diversi stendisti, ne sono numerosi, ne sono venuti da tutte le parti d'Italia a mostrare e portare in mostra i loro prodotti. Quindi ci auguriamo il meglio per noi, per tutto il territorio e per avviare i giovani anche verso un lavoro diverso e nuovo. Ma l'idea principalmente da chi è nata? Allora l'idea principale è nata dal nostro Presidente Domenico Alfano che è amante di questo settore e sta anche nel settore lavorativo di questa merce e quindi è lui che ci ha invogliato un po' a tutti a far nascere questa associazione. Credo che queste siano delle attività che non possono che essere elogiate, dobbiamo ringraziare tutti gli imprenditori della zona del PIP che si sono impegnati nell'organizzazione all'interno della stessa zona dove è sorta questa, possiamo dire, il polo industriale di Sala Consilina per organizzare questa mostra scambio con il proseguo del convegno nel pomeriggio. Io sono venuto di buon mattino e ho visto che già tantissima gente è a corsa e quindi credo che siano iniziative da apprezzare anche perché credo al di là dell'iniziativa di per sé è anche una sorta di promozione per il nostro territorio perché dà la possibilità che tante altre persone servendosi di questa mostra, venendo a vedere questa mostra, visiteranno il nostro territorio, conosceranno il nostro territorio e quindi esporteremo un pezzo di di Sala Consilina anche all'esterno delle nostre strette mure territoriali. L'ANAS comunica che dal 20 ottobre al 3 novembre sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri della strada statale 517 Bussentina nel comune di Santa Marina. Il provvedimento si rende necessario per consentire verifiche tecniche ai viadotti Palazza e Bussento. I lavori si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17 esclusi i giorni festivi. Al via il primo corso di guida sicura organizzato dalla Evorelli sul circuito automobilistico valdianese Valpista gli iscritti si sono avvicendati alla guida delle autovetture dopo aver sostenuto un corso pratico. A tal proposito ascoltiamo le interviste ai docenti e ad alcuni allievi. L'ingegnere Giuseppe Pisano per questo corso di guida sicura il primo organizzato dalla Evorelli al circuito valdianese Valpista e già possiamo tirare le somme di quelle che sono le partecipazioni anche in maniera particolare le prime impressioni di alcuni allievi che poi in seguito ascolteremo. Sì, i lavori sono iniziati stamattina verso le 9 e un quarto, hanno partecipato set patentati di età varia e dopo una prima introduzione teorica, alcune nozioni teoriche, si è passato ai primi esercizi pratici che saranno comunque intervallati, quindi è una prova pratica e una teorica in cui verranno introdotti tutti i concetti che poi saranno applicati praticamente. Gianluca D'Alto, pilota per eccellenza. Qualche dritta, qualche trabocchetto a questi giovani allievi per perfezionare la loro guida ad essere pronti nei momenti critici di tutti i giorni? Sì, infatti abbiamo appena finito i giri di apprendistato con tutte e sette gli allievi. abbiamo fatto dei giri, se così si può dire, liberi per capire, per fargli conoscere il percorso che poi si andrà ad affrontare in fase di lavoro vero e proprio e io ho fatto degli appunti, ho preso proprio degli appunti con ogni allievo per capire, senza avergli dato alcun consiglio, quelle che sono già le prime lacune che devono essere corrette. Quindi adesso faremo un altro po' di teoria per andargli proprio a spiegare e ad elencare quelle che sono state per ognuno di loro le difettosità che subito dobbiamo eliminare per poi risalire subito in auto. Stiamo cercando di essere molto dinamici da questo punto di vista per evitare di annoiarli con tanta teoria, quindi si alterneranno fasi di teoria e di pratica, però sembra che stia andando tutto per il verso giusto. Francesco Cardella, per questo primo corso di guida sicura tu sei già un patentato, ovviamente potevano partecipare solo i patentati per perfezionare la loro guida ad essere pronti nei momenti critici sulla strada di tutti i giorni. Sì, è vero, è un corso a cui ho deciso di partecipare proprio per ovviare ad alcune mancanze che sulla strada in prima persona posso avvertire, ad esempio la mancanza di aderenza in case di strada bagnata, oppure il modo di imboccare una curva, sono tanti piccoli accorgimenti che sulla strada servono, che possono aiutare ad evitare incidenti o qualche altra situazione spiacevole che può venire a crearsi con anche l'inesperienza. Quindi questo corso è stato di aiuto e soprattutto potrà mettere in evidenza anche le tue capacità, il tuo modo di reagire a queste situazioni. Sì, ovviamente è un corso a cui mi sono sottoposto innanzitutto per mettere alla prova quelle che sono le mie capacità, in tutta sicurezza ovviamente grazie al circuito che è stato messo a disposizione e dove posso essere corretto da persone in grado, sicuramente più di me, di dirmi quali sono le condizioni per affrontare in sicurezza quasi tutti i giorni che percorrono sulla strada, quelle che sono situazioni diciamo sgradevoli. Michelle, un'altra lieva e quindi parliamo in rosa a questo punto, dopo aver conseguito la licenza della patente e da qualche anno abbiamo deciso di perfezionare la nostra guida. Sì, sì, sì. Allora io sono patentata dal 96 ma in realtà il concetto della sicurezza e la padronanza della guida ce l'ho da quando poi tramite altre soddisfazioni mi sono comprata la macchina perché da piccoli si guida sempre la macchina del papà e via discorrendo. Ad ogni modo, senza voler offendere le donne, però noi donne abbiamo un piccolo margine di difficoltà in più rispetto alla capacità già naturale dell'uomo di mettersi alla guida. Senza voler essere troppo presuntuosi, sulla macchina e sulla strada bisogna essere prudenti sempre. È un concetto proprio, io già sono di mio ansioso, quindi venire a fare questo corso qui... Significa acquisito di sicurezza? No, per me è proprio di questione prioritaria, priorità assoluta. Cioè ho messo da parte tutti altri tipi di attività perché io già avevo visto questo tipo di corso per televisione che lo facevano al nord. Quando sono venuta a conoscenza di questo non ho esitato un attimo e mi sono iscritta immediatamente. Siamo alla parte iniziale del corso e in realtà rientra proprio nelle aspettative che avevo perché già un piccolo step di guida in cui loro stanno vedendo come guidiamo noi. Già mi sono resa conto che è fondamentale perché noi diamo per scondato di sapere tutti guidare, ma in effetti sappiamo guidare, ma il fatto in sé... Trovarsi di fronte a dei pericoli e non sapere come... Sono degli automatismi, sì, non sapere come reagire, anche la paura e gestire quindi il carattere che poi di ogni persona può essere emotivo più o meno, credo che siano fondamentali. Ci sono dei trucchetti a cui siamo stati sottoposti, credo, ad uno ad uno, tutti quanti, noi allievi, molto carino che ci è pervenuta una telefonata a trabocchetto riguardo le nostre generalità come modulo di iscrizione. Voi avete risposto? Purtroppo sì, purtroppo sì, e questo è l'istinto che ci accade tutti i giorni in macchina anche con il cellulare. E bisogna evitarlo. Esatto. Si concluderà domani l'ottava edizione della Festa del Broccolo in Contrada, a Taverni, a Sala Consilina, dove potrete gustare broccoli e fagioli al tegamino, panino con salsiccia e broccoli e pizza con broccoli. Nella serata di domani, musica latina e caraibica. Per l'occasione l'acquario didattico del fiume Tanagro resterà aperto per farvi ammirare le specie ittiche presenti nel nostro territorio. Bene, per questa edizione è veramente tutto. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti. Il telefono 0 975 20 68 28, la nostra mail infochiocciola CosmosTV.it e per seguire la nostra programmazione e streaming su internet www.cosmosTV.it Grazie per essere stati con noi come sempre, vi do appuntamento alla prossima edizione. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di CosmosTV. Buona serata a tutti e buon weekend. Buona serata a tutti e buon weekend.